E' andata deserta l'asta per l'ex casa di riposo di Via Rapietra e proprio in queste ore, Gian Pietro, voi avete fatto una proposta all'amministrazione comunale, quale? Di fermare le macchine e di ripensare sulla vendita di questo sito per farci delle case private. Questo è oggi l'obiettivo dell'aggiunta, questo è il senso dell'avviso di asta pubblica che appunto ieri alle 13 è andato a deserto. Chiediamo che ci si ripensi per due ragioni, uno perché ora andare avanti sull'asta vorrebbe dire svendere il bene pubblico a prezzi chiaramente di saldo e non è sicuramente un bene per la città. Due, perché sono subentrate in queste settimane e anche in questi giorni delle possibilità per ristrutturare a costo zero per il comune quel sito e farci delle strutture pubbliche. Abbiamo già detto in passato che sarebbero usciti, come appunto sono usciti molti bandi per fare delle scuole esattamente con la desertione urbanistica che prima aveva questo sito, prima che l'aggiunta Masci facesse questo regalo, questo aiutino del tutto inutile poi a fini concreti per vendere l'immobile e proprio in questi giorni nella cabina di regia sul PNRR abbiamo saputo che il comune sta cercando un sito per realizzare una struttura per anziani chiaramente la randellare al PNRR. Quindi questa è l'occasione al nostro giusto perfetta per una rinascita del sito in Viera Pietra chiaramente con fine pubblico. Noi già in passato abbiamo detto che eravamo appunto contrari alla scelta di cambiare la destrazione d'uso di quel sito per realizzarvi delle palazzine private e torniamo alla carica dicendo che siamo disponibili a rinunciare a qualunque tempo regolamentare previsto appunto dall'argomento del Consiglio Comunale se questo può essere utile per agevolare l'iter in Consiglio Comunale. Siamo disponibili da subito a sederci, disponibili a rinunciare ai tempi del Consiglio Comunale purché ci sia questa possibilità.